Una volta al giorno leva il medico ritorno, non ci sa per quanto tempo, una volta al giorno leva il medico ritorno, ok? Dai, dai! Peppe! Ma indietro! Cain! 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 Katto 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 Oh ma non va Katto Katto ok fermo che in? che in? che in? quando vede la palla impazzisce impazzisce